Assessora alle politiche sociali e giovanili del Comune di Lanciano, dottoressa Cinzia Moroso, oggi questo importante convegno provosso dal Comune di Lanciano, ECAD capofila dell'ambito 11 sociale frentano per parlare di un tema davvero scottante, parlarne a tutto tondo, a 360 gradi, quindi la violenza di genere. Si parlerà in questo corso del centro antiviolenza, del lavoro fatto dai centri antiviolenza sul territorio, ma si parlerà soprattutto di un progetto che vi vede capofila, un progetto davvero di interesse, che è il CUAV, il centro supporto degli uomini che commettono atti di violenza nei confronti delle donne. Sì, sono due anni e mezzo di mandato di questa amministrazione, era uno step del nostro programma di governo e ci ho tenuto tantissimo a iniziare questo percorso lungo, faticoso, in cui abbiamo fatto già altri incontri, abbiamo tenuto altri seminari di informazione sul territorio, perché la violenza di genere è un argomento quanto mai attuale, proprio in questo periodo, dell'altro giorno il fatto di cronaca di questa ragazza araba che si è spogliata dei propri veli e dei propri vestiti davanti a tutti, si è denudata per gridare al mondo che noi donne non dobbiamo vergognarci, non dobbiamo sentirci inferiori e non dobbiamo subire ed essere sempre nell'ambito familiare quelle che comunque e soprattutto svolgono determinate azioni. Considerate che quest'anno, ad oggi, ci sono 24 casi in più di violenze di genere rispetto agli anni scorsi. Gli abusi si svolgono soprattutto nell'ambito delle mura domestiche. Questo dato deve far riflettere, deve far riflettere ed ecco perché è importante far rete sul territorio. Noi abbiamo iniziato con il piano sociale distrettuale, abbiamo dato ascolto alle voci e ai gridi di aiuto collaboriamo sul territorio con Daphne, col centro antiviolenza. Con Daphne abbiamo fatto tanti incontri si chiama Mondo Blu, un progetto bellissimo che non solo va incontro alla violenza di genere ma anche alla violenza nei confronti dei minori, perché i minori che si trovano all'interno delle mura familiari anche loro subiscono violenza. Quindi allora il focus oggi è l'uomo maltrattante, l'uomo maltrattante che può essere recuperato. Chiaramente non parliamo di uomini che hanno efferrato dei femminicidi ma parliamo di uomini che perpetuano degli abusi all'interno delle mura domestiche. Quindi abbiamo come amministrazione individuato dei locali, dei locali in una contrada periferica quindi con privacy, con la giusta privacy e oggi è un incontro con l'ordine degli avvocati e anche accreditato presso l'ordine degli avvocati ed è importante andare a creare una giornata di confronto e di paragone con le altre realtà nelle regioni vicine all'Abruzzo, perché l'Abruzzo devo dire che è un po' indietro e un po' indietro rispetto alle altre realtà come l'Emilia Romagna, oggi devo ringraziare la presenza della dottoressa Dotti che ci porta la sua esperienza in Emilia Romagna in cui i CUA va addirittura, sono a carica del sistema sanitario e non dell'ente comunale. Quindi noi lanciano come capofila, come ambito frentano, con tutti i nostri sintaci con cui collaboriamo oggi abbiamo messo un altro tassello per andare avanti contro la violenza di genere. Ecco, si tratta di un progetto che è sicuramente supporto degli uomini che si sentono spinti da una forma di potere, di sovrastazione nei confronti delle donne. Da chi verranno seguiti? Allora, verranno seguiti, abbiamo fatto un anno di percorso formativo da avvocati, psicologi e assistenti sociali che poi sono stati selezionati con una graduatoria. Sono stati formati da noi con degli incontri presso l'aula degli avvocati del Tribunale di Lanciano. Devo dire che in tutto questo mi preme ringraziare tutto il personale dei servizi sociali. Abbiamo delle persone veramente speciali. Ci sono le nostre psicologhe, le nostre assistenti sociali che veramente si sono gettate in questo progetto, hanno organizzato questi incontri, telefonicamente hanno contattato illustri professionisti nel settore da tutta Italia. Quindi io diciamo che da sola non si va da nessuna parte, bisogna fare squadra. Ringrazio la dirigente Sabarese e tutta l'amministrazione che mi ha supportato in questa folla idea che è iniziata due anni e mezzo fa. Dottoressa Monica Dotti, sociologa, viene dall'Emilia Romagna per raccontare quanto è importante intervenire sugli uomini maltrattanti. Ecco, che senso ha operare in questa direzione? Naturalmente per prevenire, ma insomma quali sono le mission che ha un centro che si rivolge proprio a loro, agli autori di violenza e non alle vittime? Il nostro Paese ci è arrivato un po' tardi nel lavorare sugli autori, nel capire che chiaramente dietro alla maggior parte della violenza nei confronti delle donne è evidentemente la responsabilità degli uomini e quindi certamente privilegiare tutto quello che si può fare per la protezione e la sicurezza delle vittime, che quindi sono le donne e molto spesso anche i bambini chiaramente che assistono, ma certamente quello di lavorare anche sulla responsabilizzazione degli autori perché si rendano conto dei comportamenti che hanno messo in atto e attivino dei cambiamenti. Per cui diciamo che la legislazione si è succeduta nel tempo, molto dopo anche alla Convenzione di Istanbul, però diciamo che hanno cominciato alcune realtà, tra cui anche l'Emilia Romagna, ha cominciato ad avere il suo primo centro nel 2011, gestito da un'azienda USL e in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, ma il primo centro in assoluto nel nostro Paese è stato il 2009, il CAM a Firenze. Dopo queste esperienze la Regione Emilia Romagna chiaramente ha curato una rete di centri LDV in tutte le province, nei capoluoghi di provincia, sono nati anche diversi centri privati e certamente anche in molte altre Regioni si sono diffuse le esperienze dei CUAV, centro per autori. Io penso che il lavoro dei CUAV vada assolutamente integrato, tutto il lavoro di rete, vedo anche un po' l'intenzione del Comune di Lanciano e certamente della Regione Abruzzo che apprezza molto questo orientamento e penso che sia questa la strada da scegliere, cioè non c'è un unico nodo che da solo può essere sufficiente nell'affrontare questo grandissimo problema pubblico, problema collettivo. Quindi evidentemente tutti insieme, i centri antiviolenza che sono fondamentali per la sicurezza e la protezione delle donne, i servizi sociali, i consultori familiari, i pronti soccorso che vedono un altissimo numero, ecco soltanto la sinergia insieme può certamente aiutare le vittime, aiutare la società ad affrontare questo problema e rende meno soli i professionisti perché i professionisti anche quando chiaramente non sono formati e non preparati e non è il caso certamente della sensibilità che ho visto nel vostro territorio abruzzese, anche quando i professionisti sono preparati ma di fatto hanno bisogno di sapere che c'è qualcun altro con cui collaborare, condividere le progettualità. Allora solo in questo modo evidentemente le donne non sono lasciate sole ma anche i professionisti non si sentono da soli ad affrontare un tema su cui veramente è molto difficile lavorare. Quindi penso che ancora dobbiamo fare tanto ma vedo già che ci sono delle prospettive estremamente importanti che vengono svolte e il lavoro di oggi le mette in luce.